Quando siamo nati si è dato un nome che potesse rimanere simpatico oppure che se capisse bene esce appunto in mente questo. Si chiama Geppetto come il padre di Pinocchio, il burattino più famoso del mondo, ma adesso dopo 30 anni rischia di chiudere perché manca il passaggio di testimone alle nuove generazioni. Che sono qui sono 30 anni che faccio questo mestiere dal 1976, quindi sono 48 anni. Cosa rappresenta tutto questo per lei? La mia vita. Si tratta di una storica falegnameria di Arezzo, un mestiere di altri tempi, un'arte che rischia di andare perduta non trovando nessuno a cui tramandare i preziosi insegnamenti. Perché un giorno ne dovrebbe avvicinarsi a questo mondo? Perché c'è tanto lavoro e poi se può piacere o meno, però è un problema un po' di tutti che non riescono a trovare. Per evitare che la storia cinesca si chiuda per sempre a fine anno i titolari hanno anche messo un annuncio sui social network. Ci sarebbe piaciuto nel nostro annuncio che abbiamo fatto anche su Facebook che qualcuno potesse proseguire con il nostro affiancamento, se vogliono, oppure in alternativa anche solo macchinari. In soli dieci anni la provincia di Arezzo ha perso più di 3.200 artigiani, un calo del 20% secondo uno studio della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, su dati IMSS. Penso che sia un percorso del mondo che va, penso che sia una cosa che tutto all'inizio e tutto alla fine, questo tipo di lavoro, l'artigianato, a mio malgrado devo dire, ma dovrà sparire. E ci adatteremo a essere tutti lineari. Paterai il bello? Sì